Incidente mortale poco prima delle 10, lungo la Ponte Bana all'altezza della cantina Borgoluccia, su Zegana, a perdere la vita un motociclista che si è scontrato contro un'auto. Secondo quanto finora emerso sulla moto viaggiavano un uomo e una donna. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Ferita gravemente anche la passeggera, e li trasportata ad urgenza all'ospedale di Treviso, sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.